Presidente, ieri sera due persone senza nessuna colpa, senza nessuna responsabilità hanno perso la vita e non si può pensare, non si può davvero pensare di ridurre tutto a un minuto di silenzio. Ci sono delle responsabilità che qualcuno vuole continuare a non vedere, ma ci sono delle responsabilità profonde. Io non posso davvero accettare questa linea del dire che bisogna andare avanti. Non si può andare avanti negli errori, non si può continuare a andare avanti negli sbagli, non si può consentire davvero che gli errori di una Francia e spesso anche di un'Europa arrivino a spalleggiare un'azione di un estremismo islamico, di un estremismo islamico che spesso, ripeto, toglie in modo ingiusto la vita a dei cittadini. Io davvero, dopo i voti lascerò Strasburgo, lascerò la Francia, invito Macron a venire qui a Strasburgo, io rientrerò in Italia come segno di protesta. Dico tutti, dico a tutti, svegliatevi! 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 Io mi associo alla protesta e vi dico svegliatevi! Svegliatevi! Svegliatevi!